con il panino in mano e non con il tortello mucellano vorrei continuare la rima e dire quanto è bello in mucello e dice altrimenti se non fosse stato così bello sarei andato a girare nella camarga francese che è bella ma non come in mucello per cui se volete andare nella camarga francese venite nel mucello così risparmiate rote benzina e rompimenti di scatole perché la moglie dice non si sa il francese invece nel mucello si parla il mucellese che è uguale proprio ai francesi insomma ragazzi per concludere è bello il mucello c'è un po' da fare uno ci gira parecchio intorno ma chi gira troppo intorno alle cose poi rischia di trovarsi il sedere suo davanti per cui è meglio girarci poco intorno alle ore insomma fermarsi si ferma fermarsi è qui il mucello arrivederci grazie a tutti